cari amici va ora in onda proposte di investimento a cura di pietro quattriglia venneri che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte buona visione ori eccoci qui buonasera buonasera a tutte le nostre amiche buonasera a tutti i nostri amici buonasera al nostro carmelo ormai infaticabile compagno di questo mercoledì sera come stai tutto bene ma deve esserci qualche congiuntura particolare sull'azienda perché siamo tutti attaccati sulla schiena io tu la federica alessandra poverina anzi alessandra mi sa che quella che la vedi 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 deve esserci qualche cosa di particolare che insiste sulle patologie legate alla schiena in questa azienda eppure non facciamo un lavoro che stressi particolarmente la schiena no no assolutamente oddio io sono un po appesantito dalle quattro pappine che abbiamo preso ieri a stanford bridge un po di mal di schiena io un tempo di carico qui sul lombare ce l'ho ce l'ho mamma mia che seratona wow clea come stai ciao pietro tutto bene buonasera a tutti hai visto che abbiamo preso quattro pappine ieri sera e anche noi abbiamo preso tre voi avete pareggiato mi pare però noi abbiamo preso tre è in bilico in bilico la dea eh in questo in questo girone dei champions eh beh per forza laura sì prima è anche laura non tifa laura è solo in bilico allora eh volevo innanzitutto ringraziare le amiche e gli amici che hanno avuto il piacere di stare insieme a noi domenica in un appuntamento un po particolare perché eh era da un po di anni che la diretta del pomeriggio non la vedevamo in giro quindi una bella presenza un buon giro una buona situazione quindi un esperimento che potremmo dire essere andato sicuramente bene e che andremo a ripetere eh nel corso delle prossime settimane quindi mi raccomando perché prossimo appuntamento che avremo l'opportunità di passare insieme è proprio quello della domenica nella fascia oraria dal sì 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 dalle 17.30 alle 20 quindi mi raccomando segnatevelo mettetevelo a calendario sì 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 ripeteremo alle 14 l'esperimento l'esperimento dedicato agli NFT che ehm ha dato un successo pazzesco ha avuto un successo pazzesco perché domenica sempre nella fascia oraria delle 14 mi pare 14 16.30 abbiamo avuto il sold out abbiamo fatto veramente piazza pulita di tutte quelle che erano le nostre proposte con grande gioia di tutto lo staff e di chi in particolare poi si è dovuto mettere lì a pianificare tutta la questione e oh ragazzi d'altro canto noi ce la siamo inventata sta avendo successo e quindi questo anzi dobbiamo ringraziare il nostro pubblico tanto lavoro per noi molto molto meglio allora questa è una serata che come al solito ci prestiamo a passare in compagnia di 17 18 19 se non sbaglio giusto clea sono 19 giusto e allora è una serata potremmo definirla veramente molto particolare perché non è che dici c'è il dipinto un esplosivo oddio c'è una scultura di leoncillo che da sola vale il prezzo dell'intera serata però lasciamo perdere ma ci sono tutta una serie di piccole chicche veramente chiamiamole con quello che è il loro nome tutta una serie di scelte secondo me molto intelligenti molto particolari perché vanno effettivamente un po' al di fuori di quella che è solitamente la circolazione di determinati artisti dal punto di vista televisivo e devo essere sincero molti di questi nomi non ritornano così spesso neanche all'interno delle nostre dirette avremo comunque l'ultima parte nella parete finale c'è Cristo Dozio Lichtenstein sono tutte e tre cose da da prendere assolutamente al volo tutte e tre con dei prezzi veramente molto intelligenti soprattutto al di là del Dozio che ormai sapete essere una delle nostre punte di diamante attenzione alla proposta che potremo garantirvi per il Cristo e per il Lichtenstein perché sono veramente due oggetti al bacio due lavori veramente perfetti ci sono due cose di Mignieco tutte e due molto belle una a me piace particolarmente e l'altra non è che mi dispiaccia ma una delle due vediamo poi chi indovina eh una delle due secondo me ha un carattere veramente particolarissimo assolutamente unico e di grande grande incisività avremo un cascella del 73 se non sbaglio giusto Clea credo che sia 1973 vedi 1973 eccolo qui lo potete vedere nella nostra scheda che è uno dei lavori secondo me più interessanti della nostra serata e che non tarderà ad essere recepito dal nostro pubblico ma soprattutto per quanto riguarda l'inizio del nostro set abbiamo due cose che a me piacciono da morire ora cerchiamo di capire un attimino posso ci siamo voi sapete quanto io abbia sempre rotto le scatole al nostro pubblico e a voi che mi sopportate sul disegno sull'incisione sulla carta ebbene la tecnica disegnativa intesa proprio come tecnica disegnativa fine a se stessa cioè quindi non come preparatorio per la realizzazione di un'opera d'arte o di un ciclo di un complesso di opere d'arte ma il disegno per il disegno è una delle discipline sicuramente più interessanti sicuramente più importanti fra tutte quelle che sono le applicazioni della produzione della creatività artistica vi avevo detto che questa sarebbe stata una serata veramente molto particolare e secondo me per farlo capire appieno al nostro pubblico possiamo partire immediatamente da questi due lavori sono due cose bellissime bellissime gaetano pompa con due opere degli anni 70 una del 1979 l'altra 1976 tutte e due prego prego carmelo facciamole vedere tutte tutte allora guarda è molto semplice basta basta io roma 7 dicembre 1979 con tanto di dedica che poi andremo a controllare a leggere nello specifico e poi abbiamo in roma disegnato da gaetano pompa in roma l'anno 1976 guarda qui firmato datato eccolo qui sì abbiamo un'indicazione generica nelle nostre schede agli anni 70 però poi abbiamo l'opportunità di poter andare nello specifico delle datazioni con la prima opera del 1979 la seconda del 1973 ora io sempre particolarmente apprezzato no bellissime bellissime peraltro vi ecco proprio quella che abbiamo che state vedendo che avete visto fino a qualche secondo fa è molto particolare perché su carta pergaminata è trattata al caffè quindi è una cosa veramente molto è una di quelle tecniche un po più particolareggiate un po più dettagliate fra quelle che possono possedere quelli che sono i veri grandi disegnatori e ovviamente come nel caso di catano pompa grandissimo incisore ora ve li segnalo immediatamente perché seguendo la logica di quella che appunto è la nostra serata queste sono due proposte a mio parere molto raffinate assolutamente uniche dal punto di vista anche della selezione perché insomma voi che frequentate l'ambiente televisivo e le diverse aziende televisive che al momento sono presenti sul panorama italiano potete perfettamente intuire quante opere di pompa quante poche opere di questo artista siano in circolazione anche perché non sono così facili da riuscire a farsi reperire da riuscire a farsi beccare da riuscire a farsi trovare perché ovviamente chi le possiede soprattutto parlo dei disegni e ancor più delle incisioni i disegni in particolar modo tende chiaramente a conservarli all'interno della propria raccolta e questa è sicuramente una cosa estremamente intelligente estremamente molto ben pensata la cosa interessante quindi è innanzitutto vedere apparire pompa che normalmente insomma è abbastanza evasivo rispetto alla sua presenza in una televendita vederlo apparire con due bellissimi disegni quindi non con le incisioni che comunque di per sé hanno un valore bello importante hanno una loro posizione bella strutturata all'interno di quelle che sono le scelte dei collezionisti italiani e internazionali perché internazionali perché dobbiamo ricordarci che ovviamente tutti noi leghiamo il nome e la carriera di Gaetano Pompa a quella che è l'esperienza romana quella che la grande vicinanza con il mitico trio festa schifano angeli perfettamente in regola con quella che è perfettamente in linea con quella che è la biografia dell'artista ma attenzione perché perdonatemi stavo quasi per affogarmi l'esperienza biografica porta Gaetano chiaramente a lavorare a vivere a risiedere per un certo periodo in Germania dove peraltro mi pare troverà anche moglie sarà la sua compagna di una vita e l'esperienza tedesca gli dà l'opportunità proprio come incisore come disegnatore di essere e di segnalarsi fra i più importanti a livello europeo proprio negli anni 70 quindi opere uniche non progetti per ma disegni quindi opere d'arte disegnative grafiche che nascono con l'intento di essere opera d'arte e sa stessa del 1979 con una proiezione internazionale molto importante tutte e due provengono dalla solita collezione privata tutte e due vengono proposte con un prezzo ridicolo e la cosa molto interessante poi quando ho raramente l'opportunità di parlarvi di questo artista e in questo secondo me si vede in maniera particolare c'è questa forma di surrealismo bosciano perché poi irrimediabilmente tutti i grandi incisori disegnatori degli anni 70 guardano al mondo del surrealismo di hieronymus bosch ma questo surrealismo bosciano è condito da un punto di vista proprio di segno grafico non di disegno ma di segno grafico da una tendenza molto più come dire avvicinabile molto più assimilabile a quelli che poi saranno i grandi disegni di quel genio incredibile che è escher che ancora una volta ci porta in un mondo assolutamente surreale in un mondo chiaramente pazzesco pazzesco nel senso che è partorito dalla mente di un pazzo questo lo possiamo dire in maniera molto chiara a me personalmente piace da morire proprio quello che troviamo qui al numero due e peraltro una cosa che a me fa sempre molto piacere e che segnala proprio come queste opere provengano da collezioni private vedete la scelta di una cornice che si è chiaramente novecentesca ma che riprende i pattern dell'antichità sono queste le scelte che vi fanno capire quando un oggetto proviene dal mercato quando proviene da una casa privata quando proviene da una collezione privata ed ovviamente la provenienza privata su un artista di questa importanza qui è sicuramente un ulteriore punto a favore ma qual è poi l'elemento fondamentale qual è poi la questione che diventa centrale nell'andare a scegliere o non scegliere due lavori del genere il prezzo ora al di là di quello che dovrebbero potrebbero valere io non voglio fare questo sì sì scusami tendo sempre ad avvicinarmi un po troppo io vorrei cercare di bypassare questo tipo di discorso perché mi sembra un discorso abbastanza desueto abbastanza fritto e rifritto anche perché dal punto di vista del concetto insomma non ci spostiamo da quanto è stato detto in 40 anni di televendita cioè che questi sono prezzi che ovviamente non rispecchiano quello che è l'effettivo mercato di questo artista ma io vorrei per un attimo sganciarmi da questo argomento sganciarmi da questo da questa tematica da questo concetto perché è un concetto veramente ridondante è un concetto che purtroppo abusato ritorna praticamente in tutte le televendite tutte senza esclusa senza esclusione di colpi io vorrei che si riflettesse sul fatto che la proposta dei 1500 euro cada uno che è è ridicola è ridicola vorrei vi chiederei di metterla in relazione non al mercato dimentichiamoci per un attimo del mercato lasciamo stare per un attimo il mercato ok con tutto quello che si porta dietro con tutte le sue discussioni valori percentuali battute in un posto piuttosto che in un altro internazionali piuttosto che nazionali lasciamo perdere tutto questo gran ginepraio questo gran casino di concetti pensiamo all'importanza storico artistica dell'autore e alla bellezza dei lavori concentriamoci su questi due temi che poi detto fra noi dovrebbero essere i temi su cui parte ogni nostra no come dire ogni nostra confabulazione sul comprare o non comprare un oggetto d'arte dovrebbe partire proprio da queste due tematiche cioè chi lo realizza e di che qualità è il lavoro che va a realizzare le linee guida sì quei due concetti da cui devi partire e allora amiche d'amici uno e due sono senza ombra di dubbio i primi lavori che devo necessariamente mettere alla vostra attenzione io li comprerei tutti e due magari facciamo con il placet della nostra direzione commerciale possiamo anche proporre qualche piccola carezzina per la coppia piccolissima perché già partiamo dai livelli veramente molto molto bassi però guarda non avevo dubbi sì sì da questo punto di vista possiamo dire che me la sono proprio tirata però guarda clea noi siamo sempre abbastanza indulgenti nei confronti della nostra clientela cioè cerchiamo sempre di accontentare quel se possibile nel limite delle nostre possibilità quelle che sono le aspirazioni dei nostri collezionisti al di là della carezza non carezza lo sconticino la consegna piuttosto che la spedizione ascoltate il mio consiglio prima che poi si vada avanti nel corso della serata visto che chi ci segue dall'inizio ha come dire la posizione di pole position come se partisse dalla griglia di partenza nei primi quattro posti mettiamola così io questa effettiva opportunità di prelazione la sfrutterei soprattutto in particolar modo proprio su quelle due opere sono gioielli molto rari poi è chiaro attenzione io ne parlo con questo entusiasmo perché l'ho sempre detto la grafica il disegno è stato il mio primo amore cioè è da lì che tu capisci inizia a capire come funziona il processo creativo poi sono partito dall'antico quindi non solo non tanto attenzione il soprattutto nel all'inizio non tanto il disegno come disegno cioè fine a se stesso l'opera d'arte concepita come fine a se stessa ma lì addirittura diventava fondamentale perché era mezzo di comprensione di quella che poi era l'evoluzione finale dell'opera ultima e poi i piranesi che ho visto le incisioni di rembrandt che mi sono passate per le mani quelle che abbiamo venduto noi abbiamo avuto dei durer di grandissima qualità abbiamo avuto delle opere di lucas van leyden di assoluta assoluta raffinatezza quindi insomma sapete perfettamente che chi vi parla è innamorato perso dell'opera su carta collezioni molto importanti abbiamo avuto disegni anche molto importanti abbiamo avuto dei disegni di guardi molto belli abbiamo avuto delle caricature di tiepolo veramente molto interessanti abbiamo avuto quello studio per il soffitto della regia di versailles che era una roba da da svenimento ecco lì come peraltro nelle due opere di gaitano pompa ti accorgi bellissimo lì ti accorgi che in determinati casi la differenza fra il disegno e il dipinto la diamo noi esseri umani perché da un punto di vista qualitativo formale realizzativo non c'è assolutamente alcuna differenza e allora la carta amica d'amici sicuramente per me è non solo il primo amore ma un continuo persistente perenne innamoramento però attenzione perché soprattutto nell'ambito del collezionismo di opere relative al moderno e al contemporaneo ci sono dei lavori non solo specifici ma c'è proprio un mercato specifico relativo a quella che è la produzione su carta sia dal punto di vista dei multipli che dal punto di vista delle opere uniche la tecnica mista il disegno la grafite il carboncino la sanguigna eccetera eccetera e quel mercato molto particolare non di nicchia è perché non è un mercato di nicchia è un mercato con una platea abbastanza ampia con un'apertura di pubblico abbastanza ampia attenzione perché i valori si fanno valori importanti vi ho detto che nascono anche nascono ormai sono consolidate da anni delle fiere specifiche per quanto riguarda i works on paper quindi lavori su carta c'è quella importantissima wop art fair a lugano bellissima bellissima ci sono c'è il salon du dessin a parigi certo certo è un pubblico molto importante pubblico internazionale quindi io ho sempre detto che siamo noi italiani forse perché troppo ben abituati a sottostimare il valore e il potere della carta quando io parlo di carta amici e amici intendo delle opere su carta delle opere d'arte realizzate su carta e quindi sì sì assolutamente no no allora questo è un concetto unicamente italiano questa forma pregiudiziale questa forma pregiudiziale di approccio che mediamente il collezionista italiano ha alle opere su carta è solo nostra cioè non esiste all'estero questa divisione così netta ma attenzione non esiste neanche una divisione così netta non sono delle categorie ma anche dei valori perché tu oggi in italia assisti perdonatemi io mi perdo sempre questo filo maledetto che finiretta me lo trovo ai piedi in italia noi vediamo per lo stesso autore prezzi drammaticamente differenti per la pittura e per le opere uniche su carta quando ripeto soprattutto diciamo secondo me dal secondo dopo guerra in poi la carta e la realizzazione di opere su carta per gli artisti contemporanei diciamo dal post war fino al contemporary è solo un supporto diverso come la tela come il plexiglass come il pvc come l'alluminio come la tavola come i marmi i rami quindi destrutturare in una maniera così importante i valori delle opere realizzate su carta è stupido ed è controproducente per il nostro mercato tanto è vero che il mercato interno di disegni incisioni tecniche miste eccetera eccetera il mercato interno italiano non voglio dire che è depresso però lascio giudicare a voi stiamo parlando di due opere del 79 del 76 di gaitano pompa e in italia le proponiamo a 1500 euro ma la cosa allucinante è che su un mercato internazionale quale può essere quello francese che è da sempre molto affezionato alla carta quello inglese che anche lui è molto affezionato al disegno quello soprattutto americano che è affezionatissimo al disegno italiano dal diciamo 200 fino al 2021 con delle collezioni che sono veramente specifiche su questo genere di realizzazione questi sono oggetti che tu a non avresti problemi a collocare in qualsiasi momento in qualsiasi posizione collezionistica b i valori dovrebbero quantomeno rispetto ai nostri mercati essere duplicati raddoppiati così spannometricamente quindi ci sono già tante richieste mi pare di capire su queste due opere giusto clea allora si piacciono molto piacciono di più la numero due però pietro che stavo per dire vedi allora io poi perdonatemi se mi permetto posso parlottare un po col mio pubblico allora ultimamente io sono un po spostato di cervello qualcuno di voi l'avrà capito vabbè d'altro canto passiamo molto tempo insieme ultimamente ho un lungo tragitto un lungo mediamente lungo tragitto per ritornare a casa dopo le dirette diciamo che i miei 45 minuti 50 in auto me li faccio e oltre a riascoltare la replica della zanzara del pomeriggio su radio 24 adoro adoro ultimamente stavo ripensando al mio modo di condurre le dirette e mi sono detto ma non è che romperò un po troppo le scatole al mio pubblico dicendo quali siano le mie preferenze perché poi indubbiamente capisco che molto spesso si è portati magari a cambiare idea diciamo a me piaceva quello lì al numero 11 però sai vedo che pietro ha un particolare fervore sull'opera al numero 13 cambio la mia la mia scelta la mia selezione allora io non vorrei influenzare troppo le vostre scelte non vorrei essere così ripeto rompiscatole però o ragazze ragazzi siete pazzeschi la mia preferita è l'opera numero 2 se mi avessero chiesto guarda pietro c'è un amico che ti chiede un consiglio su quale delle due andare preso veramente con la pistola la tempia io avrei detto senza ombra di dubbio alcuna l'opera numero 2 ma perché perché è un disegno internazionale cioè ha proprio la cultura del disegno internazionale allora innanzitutto come vi ho detto carta pergamenata quindi già una tipologia di carta di una certa importanza attenzione apro e chiudo una parentesi molto veloce la particolarità di Gaetano Pompa è la selezione di carte con una grammatura specifica e con una capacità di assorbimento specifica perché perché Gaetano amava lavorare particolarmente con l'inchiostro a punta sottile e poi gli inchiostri acquarellati sul fondo quindi dovevano essere dovevano carte di un certo tipo dovevano essere carte di una certa grammatura di un certo spessore soprattutto con una certa capacità di assorbimento quindi lui cosa fa? Utilizza questa carta pergamenata che ha una consistenza e uno spessore maggiore la tratta leggermente al caffè poi realizza questo ovale dove attenzione seguitemi un attimo questo è tutto oro riuscite a vedere? questo è tutto oro e poi sul loro agisce ancora una volta andando ad incidere con questa punta sottilissima da pennino beh allora di cultura internazionale perché? perché qui dentro c'è tutto cioè potrei farvi vedere tutta una serie di paragoni con quelli che sono pezzi dei quadri di Hieronymus Bosch queste figure assurde eccola là eccola là qui riuscite a vederlo perfettamente queste figure assurde queste figure surreali queste figure al limite dell'incredibile questa favola misantropica e diabolica che in tutti i dipinti di Bosch riusciamo a percepire riusciamo a sentire nella sua realizzazione più piena quindi Bosch uno dei grandi padri della cultura pittorica europea del 400 poi Escher perché le ambientazioni di Escher sono esattamente percepibili proprio qui guarda lì ecco da una parte perché perdonami il paesaggio da quest'altra e poi negli anni 70 chiaramente la realizzazione di quelli che secondo me sono i suoi disegni migliori fra cui quello che vi stiamo inquadrando esatto sembra sembra un ideogramma giapponese posso? sì è finito all'H è in rilievo ed è finito all'H e vedi da qui vedi che questa è un'opera anche perché c'è la titolatura in tedesco questa è opera del periodo Germania del periodo Krukko questa invece voglio andare a leggermi la dedica al mio carissimo amico Andrea figlio di Erino con affettuoso con affetto Roma 7 dicembre 1979 è bellissima anche lei questo serpente allora sì esatto come tutte le opere di questi che potremmo definire miniaturisti potremmo definire miniaturisti contemporanei queste sono cose che vanno analizzate veramente nello specifico guarda qui spettacolare quale mi confermano? la numero 2 complimenti complimenti avevo dubbi sul fatto che sarei riuscita a tirarla giù dalla bacchetta senza fare troppo caciara bellissima bellissima Clea complimenti splendida un gentile amico posso salutarlo? Giuseppe grazie mille Giuseppe veramente un'ottima scelta bravissimo ottimo allora vi siete già fatti sfilare da sotto il naso uno dei due disegni di pompa certo vuoi che te l'avvicini? sì 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 non c'è nessun c'è nessun problema guarda ci metto un secondo bravissimo non c'è nessuno no 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 non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ci siamo? guarda questo lo togliamo via numero uno messo qui avete ancora a disposizione il primo dei due disegni anche questo attenzione di particolare ed evidente qualità poi è ovvio come ho detto è impossibile non avere delle preferenze è impossibile non avere una qualcosa che possa piacerci più di qualcos'altro ma questo non significa che quel qualcos'altro debba essere come dire distrattato debba essere snobbato anche perché trovo che sia un'altra delle sue opere più convincenti sia un'altra delle sue opere più cariche anche da un punto di vista proprio di esternazione tecnica tu guarda tutta questa parte qui tutta la parte della squamatura l'elmo questo serpente molto luciferino che viene quasi ad essere tagliato beh anche qui c'è sicuramente un linguaggio molto molto particolare ecco questa è un'altra di quelle cose che io fossi in voi come ho detto non snobberei così facilmente mi raccomando perché anche qui se non sbaglio crea la proposta quella dei 1500 euro giusto non abbiamo alcuna variazione di prezzo da questo punto di vista la preferenza però mi pare che fosse di tutto il pubblico o di una parte del pubblico quasi tutti quasi tutti quasi tutti quasi tutti è bella molto bella allora possiamo andare avanti all'interno del set ti va di farci una passeggiatina anche perché le cose da far vedere sono tante io volevo andare un attimo poi sul sul casorati ci torniamo ah ma è una tavoletta proprio vedi vedi 73 73 73 73 ciao aspetta un attimo che mi faccia tutto un giro voi sapete che molto spesso a partire dall'800 in poi alcuni quadri sono più importanti dietro che davanti allora ah guarda Carmelo questo è uno dei cascella più titolati che io abbia mai visto preparativi per le regate di cascella 1973 24 per 73 allora provenienza galleria d'arte elettrusca Roma via degli artisti poi collezione Alvieri architetto Spartaco Alvieri e poi collezione Censi Roma beccatevi questo beccatevi questo dai eccolo qui attenzione posso Carmelo guarda guarda eh ragazzi miei quando lui è impressionista così che poi questo sicuramente è se dovessimo essere perfetti nella nomenclatura no ma tu devi dire le cose per bene devi dare il giusto nome alle cose benissimo perdonatemi lo metto a parete in modo tale che mentre chiacchiero possiate gustarvelo un attimo che me lo gusto anch'io ah bellissimo allora se dovessimo essere proprio precisi al centesimo ovviamente non si può più parlare di impressionismo in questa fase siamo negli anni settanta l'impressionismo è superato quasi da un secolo dobbiamo parlare ovviamente di post impressionismo e la cosa che mi ha sempre fatto arrabbiare di più su cascella sapete qual è? molti di voi penseranno alla sua iper commercializzazione no questa non è una cosa che contro la quale io possa schierarmi ma no ma non credo cioè facendo questo mestiere non credo di potermi schierare contro questo concetto qui poi si può parlare di quella che è stata la politica di gestione dell'artista quella è un'altra storia ma quella è una storia che peraltro interessa quelli che si possono chiamare modelli di consumo che se a un certo punto vedi che i consumatori divorano una certa produzione tu quella produzione fin quando puoi mandarla avanti la mandi avanti perché ma sì sì assolutamente il concetto è che quello che diciamo mi dà maggiormente fastidio è questa descrizione di Cascella come il migliore post impressionista italiano il post impressionista italiano più importante di tutti i tempi allora innanzitutto questa è una sciocchezza da un mio punto di vista che magari non lo è da un punto di vista come dire cronologico da un punto di vista di catalogazione della storia dell'arte eccetera innanzitutto di post impressionista in Italia ne abbiamo diversi conoscete Cesare Monti Cesare Monti pittore che io ho imparato ad apprezzare a conoscere anni fa ero ancora molto piccolo avrò avuto 25-26 anni ero all'inizio lavoravo per una galleria di Milano molto importante che era centrata proprio su questi autori e che me li ha come dire fatti imparare me li ha insegnati per benino Monti è un pittore che a me piace da morire e che se vogliamo ha una tendenza maggiormente legata al post impressionismo internazionale ma lo si vede anche nella pennellata lo si vede nella scelta dei soggetti in come vengono trattati determinati soggetti e tanto è vero che poi Cesare Monti soprattutto nelle opere degli anni 50 evolve definitivamente dal post impressionismo alla figurazione moderna i nudi distesi sono alcuni dei soggetti secondo me che particolarmente evidenziano proprio il concetto di cui stiamo parlando per me Michele Cascella è a tutti gli effetti un impressionista che diventa post impressionista o meglio un impressionista che è post solo perché nasce con qualche decennio di ritardo ma noi abbiamo avuto ve lo ricordate abbiamo avuto la prima opera di Cascella un'opera che lui realizza all'età di 17 anni mi pare 16-17 anni che ho personalmente consegnato in una bellissima che oggi è in una bellissima collezione Ligure e beh lì ragazzi miei cioè sembra veramente Monet e non c'è quasi alcuna differenza fra l'impressionismo di Cascella e l'impressionismo più originario dei francesi delle parisiennes e questo occhio perché nonostante sia perché siamo così verdi no perché poi rischia di virare verso il verde anche il dipinto attenzione ora siamo perfetti perfetti ottimo ottimo nonostante sia un'opera del 1973 guardatela attentamente non vi vengono in mente le tavolette le marine al tramonto di Monet perché amiche e amici il fatto di nascere in una certa epoca non può essere come dire castrante certo poi uno dice tu sei nato in quegli anni lì e tu non sei più un impressionista ma sei un post impressionista perfetto ma amiche e amici guardando la gestualità la velocità del tratto l'impaginazione proprio che lui sceglie di dare all'opera ma soprattutto attenzione qual è il dato fondamentale che lega in maniera indissolubile Cascella all'impressionismo e non al post impressionismo qual è andiamo sul quadro è il fatto di dipingere en plein air cioè Cascella non riuscirà mai soprattutto per quelli che sono i suoi dipinti più importanti e vista insomma la serie di medaglie che questa tavola si porta dietro possiamo catalogarlo come una delle cose più importanti di Cascella attualmente in circolazione Michele Cascella non elabora mai il soggetto fondamentale in laboratorio in studio Michele Cascella è pittore impressionista perché è pittore in plein air e questo è un quadro che ce lo dimostra pienamente amiche ed amici occhio perché io come tanti altri miei colleghi di opere di Cascella ne abbiamo viste a centinaia esatto probabilmente ne abbiamo vendute migliaia ok ma se dovessi dire in in 12 anni di carriera che insomma rappresentano uno spettro abbastanza interessante per dare delle come dire per fare delle delle valutazioni in 12 anni di carriera quanti bei Cascella hai venduto ma belli cioè belli nel senso di quelli che ti metteresti in casa no visti visti ne ho visti no no visti visti belli sì poi alla fine è vero ora ci stavo riflettendo non è che vada troppo distante da quel numero lì ma venduti belli dal sottoscritto allora ero ancora a Venezia ed era una grande opera degli anni 40 una tipo una veduta di Roma con dei personaggi degli anni 40 il Cascella che poi ho personalmente consegnato quindi quello realizzato in età super giovanile la prima opera in assoluto di Cascella quella con cui poi partecipa nel 17 mi pare alla sua prima esposizione è questo cioè di tutto quello che mi è passato per le mani di Michele Cascella e insomma voi sapete per quali aziende io abbia lavorato e sapete queste aziende che tipo di rapporto abbiano avuto in particolare una con Michele Cascella anzi da un certo punto di vista possiamo dire che se Michele Cascella diventa quello che è diventato nel tempo nel bene e nel male lo deve proprio a quell'azienda lì soprattutto il soggetto legato a Portofino in maniera particolarissima è ovvio amici e amici che a questo punto dopo la grande sbornia del mercato degli anni 90 oggi non si può comprare tutto quello che il mercato ci offre di Cascella bisogna saper selezionare in maniera molto attenta cioè fare quell'operazione di valutazione smaltimento non andare a raffinare le cose da scegliere e questo chiaramente come lo facciamo facendoci consigliare oppure avendo noi in automatico gli strumenti in automatico in autonomia pardon gli strumenti per poter scegliere ora per chi fa il mio mestiere e per chi come me di opere del maestro ne ha viste veramente tantissime tantissime aiutarvi a raffinare la scelta è necessario e doveroso ma io credo che ci siano moltissime amiche e moltissimi amici a casa che senza neanche bisogno delle parole del sottoscritto sappiano possano e debbano individuare quel quadro lì come uno dei Cascella più interessanti attualmente a disposizione vi parlo anche del prezzo perché poi ovviamente diciamo si Pietro ok siamo tutti d'accordo sul fatto che il quadro sia interessante che il quadro ci piace eccetera ovviamente già archiviato occhio ovviamente già archiviato 24x37 cm la proposta di arte investimenti permettetemi di sottolinearlo è quella dei soli 5500 euro questo amici miei è un quadro che io metterei al riparo da occhi indiscreti nella maniera più veloce possibile ve lo dico proprio molto francamente poi andiamo avanti vieni un attimo con me perché non è mica finita qui vi voglio far vedere un dalbon molto bello 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 il dalbon questo molto molto bello ma attenzione follow me secondo voi dei due qual è quello che mi piace di più ora il giochino lo facciamo all'inverso Carmelo se no poi mi sento mi sento in colpa con me stesso allora il giochino ora lo facciamo in maniera diversa secondo voi a Pietro Quattriglia venneri qual è dei due Mignieco quello che piace di più Carmelo su quello io non ho alcun dubbio però però si sta preoccupando Laura allora questo cascella facciamogli vedere tutti e due no stavo solo dando uno sguardo perdonatemi perdonate le spalle stavo solo dando uno sguardo perché al netto di quelle che possono essere le mie preferenze poi vi farò vedere una cosa su questi due Mignieco si chi è grande Mirko grandissimo grandissimo si hai proprio ragione anche perché perdonatemi un attimo ok allora galleria Codebò galleria il portico me lo posso guardare un attimo prima firma di Mignieco del 73 galleria Michelangelo anche occhio occhio allora qui la situazione si fa bella importante perché galleria Codebò galleria il portico timbri della galleria Michelangelo autentica in originale di Mignieco quindi amiche d'amici qui si parla di un quadro che è un super 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 Mignieco eccoci qua abbiamo fatte vedere tutte ora come giustamente dice il nostro amico la mia preferita è senza ombra di dubbio quella numero 12 esatto il mitragliere quindi opera anche abbastanza come dire non complessa ma con un senso specifico veramente molto importante veramente molto profondo e peraltro occhio perché il Mignieco il mitragliere del 1961 archiviata in catalogo generale con repertorio 4718 a 57,5 per 45,5 amici miei questo è un altro di quegli artisti di cui potremmo dire le stesse cose che abbiamo detto di Cascella secondo me con un'incidenza minore perché comunque la questione Mignieco è stata trattata in maniera sicuramente diversa rispetto alla questione Cascella però anche qui è indubbio che a questo punto nel 2021 a quasi il dicembre del 2021 il collezionista che nel 2021 sceglie Mignieco non può certamente farlo allineandosi alle scelte degli anni 90 sai chi mi ricorda visto proprio così mi ricorda i dipinti degli anni 30 di Groz dove iniziava a prendere in giro le Schulstaffel la Wehrmacht questi nuovi soldati nazisti e peraltro ne parlavo di Groz con un carissimo amico che ho avuto l'opportunità di conoscere la scorsa settimana che ha comprato il bellissimo disegno di Groz del 34 quello pubblicato il messaggero opera stratosferica disegno stratosferico opera stratosferica lui era stato a Berlino aveva tempo fa aveva intercettato un catalogo di una mostra di Groz stavamo guardando le opere pittoriche e proprio quelle degli anni 30 hanno questo piglio hanno questa forte esatto esatto è pittura di denuncia è pittura di denuncia di fortissima denuncia anche perché vedi poi hai come dicevi giustamente tu questo viso estremamente grottesco caricaturale ma grassamente caricaturale diabolicamente caricaturale e questo è sicuramente uno dei lavori secondo me migliori in assoluto per quanto riguarda Mignieco che ha un carattere assolutamente particolare proprio perché ha questo fortissimo potere di denuncia questa fortissima carica di denuncia gli anni 60 sono degli anni molto particolari per quello che è l'assetto politico e sociale italiano quindi stiamo parlando di anni veramente intensi e da un punto di vista anche di contrapposizione con quello che era il mondo delle destre con quello che era il mondo delle forze dell'ordine delle forze armate Mignieco ci regala questo pezzo di denuncia sociale e di caricatura sociale anche da un certo punto di vista era il post primo per l'unità sì 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 era immediatamente dopo il primo post war però quello per quanto riguarda Groz attenzione per quanto riguarda Groz qui siamo nel 61 quindi ma vedi noi tendiamo a sottostimare l'onda lunga del ventennio facciamolo vedere per favore eccolo sì 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 vedi questo questo modo grottesco caricaturale questi il sopravvissuto vedi vedi anche lui con invece guarda guarda come lo prende in giro ha il coltello fra i denti e invece della la mitraglietta si è trasformata in una fiocina beh no no ma il concetto guarda che è assolutamente medesimo non c'è troppa differenza e riprendo un attimo il discorso che stavamo affrontando noi molto spesso siamo portati a sottostimare enormemente quello che è quella che è l'onda lunga del ventennio fascista in Italia ma non solo del ventennio in sé no come presenza fascista eccetera eccetera no la contrapposizione rossi neri esiste ancora oggi quindi noi siamo portati noi italiani siccome siamo un popolo che vuole cancellare in fretta le sciocchezze che combina siamo portati a pensare che 45 finisce la guerra finisce il nazismo diventiamo tutti di nuovo una nazione di persone intelligenti di persone democratiche di persone cosmopolite no certo ragazzi nel 45 noi perdiamo la guerra e la vinciamo col piano Marshall piano Marshall che vuol dire però cosa inserimento di una militarizzazione americana sul territorio italiano e derle l'altra qual è Camp David Camp Derby a Pisa quella a Verona ma c'è quella mitica a Vicenza la Ederle da dove partivano in caccia per andare in Bosnia e tutta questa serie di considerazioni anche l'ingerenza americana in Italia tramite i soldi del piano Marshall tutta la stagione delle grandi sporcaccionate fra i servizi segreti italiani i servizi segreti americani Ustica tutto il casino che è successo queste sono rifrazioni onde lunghe di un processo politico che si attiva col ventennio fascista e negli anni 60 la contrapposizione fra i rossi e i neri in Italia è più forte che mai sette anni dopo noi avremo la mitica stagione del 68 italiano le occupazioni delle università il terrorismo di colore rosso le grandi operazioni terroristiche delle brigate rosse i comitati popolari di attivazione cioè è un momento veramente molto molto fervente no? ribolle particolarmente questo momento qui e allora il mitragliere del 61 di Mignieco altro non è se non una riedizione della voglia di sbeffeggiare quello che negli anni 60 è ancora visto come un elemento di contrapposizione chiaramente di fazione nera no questo è il Mignieco vero perdonatemi signore e signori molti di voi avranno dei soggetti sicuramente diversi dei soggetti molto più come dire riconoscibili se vogliamo da certi punti di vista molto più popolari se vogliamo da certi punti di vista però ragazzi miei il collezionismo non è fatto dalla selezione di cose che possono avere tutti il collezionismo non è fatto dalla selezione di cose popolari sì assolutamente assolutamente questo amiche ed amici è uno dei quadri più belli che io abbia mai visto di Mignieco vedete Pietro ma come sei impazzito ma come fai a dire che questo è uno dei quadri più belli sì lo è questo è davvero e se vogliamo definirlo è il quadro di Mignieco perché perché dobbiamo comprendere che uno degli elementi fondamentali in questa produzione nella produzione di questi anni in Italia soprattutto se la guardiamo attraverso la lente di ingrandimento di un maestro così importante come Mignieco non è tanto quello di essere l'obiettivo non è quello di essere perfetto dal punto di vista formale dal punto di vista tecnico e qualitativo l'obiettivo è quello di essere protagonista con la propria arte del momento sociale e politico che vive la nazione certo e qui ragazzi miei c'è tutta la voglia di partecipare a questo dibattito da parte di Mignieco senza troppe illusioni ma con la forza che solo i grandi pittori hanno quadro fantastico quadro pazzesco quadro veramente pazzesco occhio ora andiamo a parlare anche di Soldini perché questa è sicuramente la cosa che poi interesserà di più al nostro pubblico perché per quanto Schultz Schultz è quello di di Snoopy e poi c'era invece quello che non mi ricordo mai come si chiami che era quello che disegnava gli Sturmtruppen come si chiamava il fumettista degli Sturmtruppen eh non me lo ricordo neanche io Sturmtruppen io avevo il diario degli Sturmtruppen quando ero all'elementare mi facevano morire dalle risate perché sotto ogni giorno c'era la striscia di fumetto e io impazzivo da ridere eh? sì 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 esatto esatto allora per quanto riguarda il minieco anzi uno dei permettetemi di dirvelo con molta franchezza capolavori di minieco proprio da un punto di vista intellettuale culturale la richiesta è quella dei 5200 euro che è ridicola anche in questo caso soprattutto perché vi ricordo vi ricordo amiche ed amici vi ricordo tutto questo tutto questo tutte queste provenienze tutte queste derivazioni tutta questa importanza compresa nei 5200 euro abbiamo capito? allora ma siccome non finisce qui rimaniamo ancora un attimo sul minieco perché voglio sposto un attimo questa qui sì sì poi ci concentriamo anche sul resto allora volevo farvi fare ancora eh? a quale? sì 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 assolutamente perché? vuoi buttarlo via? no ah no non capivo Carmelo stai calma e ci è stato dato questo imperativo categorico? guarda guarda io eseguo gli ordini guarda vieni con me glielo facciamo immediatamente vedere tutto eh su questo poi ci ritorniamo su questo poi ci ritorniamo perché scuffi più bello come Sironi allora Filberg e Filberg sono molto belli molto molto belli ma attenzione perdonatemi parete finale Cristo Dozio Lichtenstein e occhio amiche e amici perché il Cristo e Lichtenstein dovreste confermarli senza neanche sentirne il prezzo senza neanche sentirne il prezzo e il se allora se in questo momento c'è un carissimo amico che ci sta guardando che si chiama Angelo che è particolarmente affezionato all'arte pop bene Angelo il Roy Lichtenstein devi prenderlo assolutamente assolutamente e invece chi volesse come dire acchiappare una grande preda non che Lichtenstein e Dozio non lo siano ma bravissimo in una scala gerarchica la necessità di cacciare immediatamente questa preda è assoluta Cristo ma attenzione qui amiche d'amici è il prezzo ad essere pazzesco allora diamo un attimino di specifiche perché è il progetto per la gliptoteca dell'88 project for the gliptotech 89,3 per 68,5 collage con foto carta e interventi manuali collage con foto carta e interventi manuali 3.900 euro cioè allora gli hanno fatto la mostra alla scuola grande della misericordia a Venezia se vogliamo dare un occhio a quelle che sono state le ultime mostre dedicate a Cristo in Italia sì purtroppo scomparso recentissimamente quanto è un anno un paio d'anni forse meno di un anno guardaci un attimo perché poi sai che io con le date sono pessimo il progetto di Parigi 31 maggio del 2020 il progetto di Parigi che lo vede ancora una volta protagonista post morte a 3.900 euro questo è l'altro must della nostra serata allora i must della serata sono posso dirvelo molto sinceramente Cascella Mignieco Scuffi Cristò e Ligtestain queste sono secondo me le 5 cose fondamentali che il nostro pubblico questa sera deve recepire il Cristò a 3.900 euro dai diciamocelo senza troppi peli sulla lingua è un regalone del 1988 è un super 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 regalo poi volete che vi dica anche il prezzo è Ligtestain se il mio amico Angelo ci sta guardando prima che io dica il prezzo a tutto il pubblico ci chiami e lo confermi allora l'opera è del 63 Woman in Bath ovviamente archiviato presso la fondazione Ligtestain quindi non come certuni a volte propongono lasciamo stare perché veramente a volte vedo apparire delle cose soprattutto in tv che sono vomitevoli ma non vomitevoli per la bruttezza vomitevoli perché è sconfortante davvero che l'arte venga trattata come del pollame molto spesso è veramente frustrante da un certo punto di vista questi sono i Ligtestain giusti cioè quelli che si portano dietro la fondazione ovviamente opera del 1963 eh beh questo sarebbe perfetto eh questo sarebbe perfetto se 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 l'amica cliente di Carmelo delle zone modenesi volesse prendere mettere da parte qualcosa stasera il Ligtestain è perfetto ma guarda anche il Criston non è da da snobbare eh e costa costa molto meno ma non che il Ligtestain costi chissà quale somma pazzesca soprattutto per essere una tiratura del 63 eh con l'archiviazione in fondazione eccetera eccetera è chiaro che il Criston a 3900 euro balza veramente agli occhi si interessano al cascella eh guarda ci ritorno immediatamente perché volevo solo dare una completa eh visione del set al nostro pubblico ma la mia idea era proprio di ritornare su una delle cinque opere che io ho qualificato come i top lot della nostra serata e guardi per quanto riguarda il cascella hai già detto tutto Clea bene e allora prima di farle vedere il quadro dal vivo le faccio vedere il retro dell'opera perché perdonami Carmelo qui c'è un'indicazione importante collezione allora provenienza galleria d'arte all'etrusca collezione alvieri e dopodiché collezione cenzi due fra le più importanti collezioni private romane fra gli anni 60 ed 80 aspetta rimetto a parere il quadro tavola opera su tavola 1973 la preparazione per la regata stato di conservazione ottimo ottimo non ha nemmeno è un nostro amico guardi la cosa simpatica è che soprattutto per le opere su tavola degli anni 70 dove lui utilizzava una vernice finale abbastanza particolare il problema delle opere di quel momento qual è soprattutto ripeto di quelle su tavola che questa vernice inizia a virare verso il giallo tende ad ingiallire dipinti quindi cosa succede succede che normalmente lo si deve pulire e nell'andare a ripulire nel togliere quella che è la vernice originale che comunque va a virare verso il giallo a volte si perde un po' di profondità la cosa molto interessante secondo me rispetto a questo cascella è che il problema di questa virata verso il giallo non lo abbiamo fortunatamente infatti lei può vedere si leggono molto bene ancora i bianchi i gialli gli azzurri le figurine e poi consideri questo è chiaramente come avrà immediatamente intuito è una delle sue espressioni migliori nell'en plein air e quindi insomma da cultore di cascella capisce anche lei che la proposta per il tipo di quadro di cui stiamo parlando è estremamente interessante io poi mi sono permesso di dire non so quanto lei possa condividere o no questo concetto non so quanto lei possa condividere o no questo concetto ma io non ho paura di affrontare queste tematiche perché hanno rappresentato alcuni dei temi fondamentali nell'evoluzione della storia della televendita italiana di cascella noi italiani ne abbiamo visti tantissimi tantissimi a bizzeffe alcuni giusti alcuni no perché conosciamo esattamente qual è la storia purtroppo per alcuni versi negativa legata al commercio e a questo autore nello specifico è chiaro che chi sceglie oggi nel 2021 Michele Cascella non può più accontentarsi delle opere seriali a cui il mercato italiano è stato sottoposto per 15-20 anni basta poi se c'è ancora chi riesce a vendere le Portofino degli anni 80 degli anni 90 sì ma lì devi andare a ricercare proprio l'ago nel pagliaio perché oh dai Carmelo vado subito via perdoni cioè dai Carmelo cioè non prendiamoci in giro perché se no sembra che vogliamo venirla a raccontare a qualcuno lì in quegli anni beccare la Portofino di grande qualità o i campi bravo bravo è molto difficile quindi chi oggi nel 2021 va a valutare Cascella vuole acquisire un'opera di Michele Cascella giustamente deve raffinare la sua ricerca necessariamente necessariamente questo questo è un ottimo prodotto di questa scrematura questo vuol dire raffinare la ricerca in maniera importante andando a selezionare un lavoro genuino innanzitutto di ottima epoca perché parliamo del 73 e con tutti i cartigli di cui abbiamo parlato al verso della tavola ci chiarifica cosa? che il quadro ha una storia importante quindi sicurezza sicurezza che è passato da mani esperte bravissimo perché sono importanti le provenienze perché le provenienze sono importanti perché ti fanno capire chi ha posseduto questo dipinto e allora è molto difficile che dei collezionisti di questo calibro andassero a selezionare delle opere di scarso livello qualitativo un sacco di soldi assolutamente ci dica questa è una vela questa è una vela no no questa è una vela vedi anche perché realizza l'albero esattamente nello stesso modo in tutte le altre ma non è un muretto è una vela allora guardi non so se riusciamo ad entrarci è una vela anzi sono due vele albero nel mezzo vedi esattamente come le realizza qui con le due strisce gialle con le due strisce blu con le due strisce carta da zucchero è una vela diciamo un po' più in primo piano rispetto alle altre non è assolutamente un muretto sì sì è una vela assolutamente senza senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio quadro poi insomma un quadro che è già archiviato in fondazione che è passato per una galleria importantissima per due collezioni romane fondamentali nel 73 quando giustamente questi erano quadri amiche ed amici che costavano bei pacchi di soldi in quell'epoca costavano veramente dei soldoni quindi questo è uno dei sicuramente quadri migliori di Michele Cascella una delle cose più importanti di Michele Cascella proposto a 5500 euro se volete andare a controllare l'archivio il numero 73 barra 86 quindi siamo precisi e perfetti come peraltro perdonami Carmelo ma abbiamo l'obbligo di dover essere nel momento in cui si vanno a trattare determinati autori e andiamo a prendere in considerazione determinate dipinti determinati lavori poi attenzione anche qui chi guarda chi è assiduo frequentatore delle nostre dirette avrà visto che Michele Cascella è uno degli artisti meno rappresentati l'ultimo Cascella che io ho avuto per le mani era quello del 17 che poi è stato venduto in tre balletti abbiamo avuto quello bello quello bello ma attenzione l'ultimo Cascella passato forse è quest'estate perché io mi ricordo di essere stato a Genova l'ho consegnato a Genova che era piena estate perché poi sono andato sono andato a mangiare a Nervi nel mio ristorante preferito era quest'anno era quest'anno mi ricordo perfettamente il pranzo a piedi sulla sabbia a Nervi quindi che cosa vi fa capire questo discorso che per noi ricercare determinati autori è molto più importante che avere le loro opere dozzinali per ogni diretta cioè noi Cascella lo sapete dai amiche domicili non prendiamoci in giro potremmo fare degli speciali su Michele Cascella dirette monografiche con 20 o 30 lotti a disposizione eppure dall'estate a qui sono passate due opere di Cascella ma quali? una del 17 pubblicata esposta alla prima mostra la prima opera nota del maestro cioè proprio quella con cui nasce Michele Cascella pittore è lei due opere importantissime una giustamente già collocata questa alle mie spalle aspetta solo la vostra telefonata amiche d'amici il Cascella alle mie spalle aspetta solo la vostra telefonata sì sì piccola così credo fosse no era una veduta del del fiume quello lì di Pescara come si chiama? esatto esatto guarda che razza di Cascella ti stiamo facendo vedere ragazzi io credo di non aver mai speso tutto questo tempo su Cascella se andate a ben vedere tutto questo tempo l'ho speso per la presentazione dell'altro quello del 17 c'è questo ragazzo ha 23 anni? ma grazie 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 guardi no ne ho 37 subito ci andiamo il dalbone ne ho 37 ma se me ne dà 23 siamo già amici assolutamente anzi 37 con più di peraltro da pochissimo grazie lei ha una cena pagata quando passa da Milano è mio ospite a pranzo allora sul dalbone bene io lì ci sarei andato anche perché poi sai mi sono fatto un po' prendere dalla situazione Cascella Mignieco il bellissimo Lichtenstein che è ancora lì mannaccia mannaccia però questa chicchetta di dalbone è niente male 43 mi pare 47 scusami 47 archivio generale si 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 aspetta eccoci qua quadro bellissimo anche lui ma su quel Cascella lì ma magari andiamo a trovarlo noi magari vado a trovarlo io perché no perché no eh come ma si 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 è si si ora un po' ho fatto vedere un po' così sommariamente le cose e ho parlato in maniera specifica di alcuni dipinti potremmo anche far un piccolo giro con le nostre schede anche perché siamo alle 22.52 e non lo abbiamo ancora fatto ok, ci vediamo fra pochissimo, grazie Grazie a tutti 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 Prezzo Grazie a tutti 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 Inverno Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti